amiche amici di rossini tv siamo al centro ipico labbadia a chiaserna di cantiano siamo qua perché oggi c'è la conferenza stampa di presentazione dell'edizione autunnale di cantiano fiera cavalli non potevamo assolutamente mancare perché sono anni ormai che seguiamo e vi facciamo seguire questa manifestazione straordinaria andiamo a scoprire le novità di questa edizione autunno 2024 col sindaco alessandro piccini sindaco stiamo innescando tutta una serie di piccole tradizioni questa si aggiunge alla tradizione della conferenza stampa sul posto siamo qua siamo alla badia e siamo qua per parlare di cantiano fiera cavalli questa volta edizione autunnale esatto ecco l'edizione classica torniamo con le due domeniche centrali di ottobre all'evento tradizionale che quest'anno ecco segna i 45 anni di età quindi ecco questa nostra manifestazione che ormai un grande evento che sfrutta la sua unicità quella di essere unica nel suo genere come fiera di settore di settore per svolgersi in un contesto ambientale di alta qualità quindi non siamo paolo dentro un contenitore fieristico ma siamo alle pendici del monte catra quindi in un contesto ambientale di alta qualità in cui il contatto tra uomo cavallo e natura è spontaneo e storico questo piano piano stiamo riuscendo a farlo capire imparare i telespettatori di rossini tv tutti quelli che seguono e che partecipano che sono veramente tantissimi l'unicità di questa fiera che continua a chiamarsi fiera anche se ormai è quasi qualcosa di più molto di più è un grande evento è un evento nel quale succedono tantissime cose per cui l'idea di fiera è l'idea di scambio quella da cui si era partiti in origine lo scambio del bestiame tutto sommato perché questo era e invece voi siete negli anni riusciti a trasformarlo in qualcosa di fortemente attrattivo quest'anno ancora due domeniche il 13 e il 20 di ottobre con un programma intensissimo che punta ad attirare veramente tanta tanta gente esatto ecco alla tradizionale formula della commercializzazione del cavallo abbiamo aggiunto ormai elementi di qualità quindi no abbiamo una vetrina ampia di qualità dei nostri allevatori l'allevatori l'associazione allevatori cavallo del catria il nostro centro ippico la badia più tutto il nostro indotto agroalimentare quindi un cocktail di no eventi che fa di questa fiera un qualcosa di unico nel suo genere e sfruttando come unicità quella del cavallo cavallo del catria l'unica razza autotona della regione marca attorno al quale costruire appunto un evento promozionale ma anche di ricaduta economica reale sul territorio quindi tra l'altro proprio pochi minuti fa mi è arrivata notizia che per la seconda anno consecutivo abbiamo di nuovo il patrocinio da parte del masaf del ministero dell'agricoltura quindi credo che per il lavoro che abbiamo fatto sia la giusta riconoscimento a quanti ecco non in questi giorni ma tutto l'anno investono sul cavallo e quindi ci danno la possibilità di creare eventi come questo ricordiamo poi che da qualche anno oltre a quella autunnale che appunto è da 45 anni che si tiene c'è anche quella primaverile allora ci piaceva un po ne avevamo parlato anche in passato l'idea che un po tutta la comunità cantianese si muovesse sul ritmo dei cavalli no si apre in qualche modo al pubblico e a chi vuol seguire le varie vicende di vita in primavera con l'edizione appunto di maggio e poi diciamo si chiude ma non si chiude naturalmente con l'edizione autunnale per cui un ritmo scandito in maniera molto forte dai cavalli però voglio ricordare che un altro dei punti e che poi viene sottolineato anche durante proprio la fiera è che cantiano è fortemente legata alla figura del cavallo ma non è solo cavallo no è chiaro ecco il cavallo è l'elemento di unicità che racconta il territorio e le sue bellezze agroalimentari ambientali ma cantiano è anche storia cultura tradizione è grandi eventi è la turba è una comunità che insomma è molto attiva durante tutto l'arco dell'anno e che segue ecco la sua programmazione in funzione delle stagioni degli eventi storici e quindi abbiamo una promozione turistica che senza soluzione di continuità ormai ci coinvolge durante tutto l'arco dell'anno ci sono altre sedi nelle quali il sindaco piccini parla di quelli che sono invece tutti gli altri problemi ricordiamo l'alluvione tutto quello che c'è stato però in questa sede vogliamo ricordare proprio e fare il piccolo aggancio all'idea di comunità una comunità così non poteva essere dispersa non poteva essere chiusa non poteva comunque soccombere di fronte a problemi come c'è stata l'alluvione e non era l'unica siamo in un periodo in cui ha ricominciato un po' a piovere il cuore batte un po' beh è chiaro per noi la pioggia non è più la pioggia di sempre ecco abbiamo sempre legato quel ricordo ma da quel ricordo oggi vediamo solamente l'aspetto positivo di rilancio di averci creduto oggi la comunità cantianese è più unita e più solida di prima e questi eventi ne sono la dimostrazione una comunità che sa unirsi anche in maniera solidaristica gratuita e sa mettere in scena degli eventi nazionali non è una cosa da poco e credo che solo una comunità unita coesa riesca a farlo quindi ecco io credo che da questa nostra pagina negativa possiamo solo trarne beneficio e guardare con ottimismo al futuro del paese forte anche di quell'identità culturale promozionale che eventi come questo ci hanno permesso di raggiungere. ci siamo lasciati lo dicevamo in maggio con l'edizione primaverile siamo alla conclusione dell'estate come è andata l'estate? è stata un'estate densa e molto partecipata ecco c'è stato anche il logame coste dentro terra un successo imprevedibile incredibile della settimana pesaro capitale della cultura e quindi credo che l'estate non faccia altro che traghettarci da un grande evento a un altro grande evento quindi dalla turba il cavallo l'estate cantianese credo che dia la dimostrazione concreta di come una piccola comunità ormai sa fare grandi cose. Diamo atto al vostro ufficio stampa di aver avuto questa intuizione di fare la conferenza stampa un paio di settimane diciamo una settimana prima dell'avvio dell'evento proprio per dare la possibilità comunque alla stampa di diventare anche uno strumento promozionale sfruttiamo questo strumento sindaco. Sì ecco io vi ringrazio per la presenza ma abbiamo voluto farla qui per dare l'idea di cosa significhi la fiera del cavallo la fiera del cavallo è questa sono i cavalli alle mie spalle sono il coinvolgimento delle giovani generazioni di un'intera comunità è il monte catra è questo territorio quindi è il vivere a contatto veramente con l'uomo con l'animale quindi ecco questa non è una fiera da vedere ma è una fiera da vivere quindi nella sua interezza in queste due giornate in cui veramente si può assaporare ecco quel ritorno a un ritmo ecco meno frenetico e insomma è una domenica rigenerante io la richiamerei in cui una famiglia può ritrovare ecco quel rapporto naturale col territorio quindi ritrovare un po di serenità e andare a casa più arricchito di come era venuto. con giuseppe travagliati presidente dell'associazione allevatori cavallo del catere ci siamo lasciati in maggio per l'occasione appunto di cantiano fiera cavalli edizione primaverile e ci ritroviamo dopo un'estate passata e allora la prima domanda è come è andata l'estate? allora è andata molto bene dal punto di vista turistico e ricordo che ancora tutti purtroppo abbiamo la problematica della riapertura della strada del catria so che le istituzioni ci stanno lavorando quindi ricordo a tutti che questa strada è proprio un'arteria principale in una via turistica sia dal versante orientale che il versante occidentale nostro del massiccio del catria quindi è un comune intento della prossima riapertura della strada quindi abbiamo avuto moltissimi turisti l'equiturismo e quindi l'equitazione di campagna sta andando molto forte e questo grazie alla duttilità dei nostri cavalli del catria ricordo tutti sono cavalli adatti a tutti abbiamo avuto ragazzi qua nel nostro centro alle prime monte le prime lezioni ma abbiamo avuto anche in campagna i nonni dei ragazzi quindi un cavallo a 360 gradi è un cavallo come ripetiamo sempre adatto a tutti ovviamente l'evento l'evento di maggio è stato un evento straordinario tantissima gente ma voi avete anche elementi per valutare l'effetto poi sul prosieguo della stagione avete elementi per capire se quell'impostazione vi dà maggior visibilità e porta poi turismo durante l'estate allora gli elementi ce la dà i numeri la mia attività è relativamente giovane io sono accompagnatore queste di campagna da tre anni non più mi sono formato gli ultimi cinque sei anni quindi la mia attività posso parlare per la mia attività sta crescendo come stanno crescendo anche qua i numeri nel nostro centro di valorizzazione alla badia è sicuramente è sicuramente un bacino pubblicitario ma anche la valorizzazione del nostro stesso cavallo quindi la partecipazione nostra a tutti gli eventi principali d'italia uno specchio è un richiamo per tutti i cavalieri quindi dobbiamo continuare così dobbiamo migliorare un po tutti dobbiamo raffinarci un po tutti poi i risultati vengono naturalmente chi lavora nel mondo di cavalli sa che i risultati con i cavalli avvengono con tanta passione con tanto cuore con tanta dedizione e quindi continuiamo così con la forza la forza del gruppo la forza dell'associazione delle istituzioni oggi siamo qua perché viene presentata l'edizione autunnale l'edizione autunnale ha una storia un po più lunga no quella primaverile è stata una sfida del sindaco piccini relativamente recente invece la storia dell'incontro autunnale della fiera cavalli che una volta era essenzialmente una fiera bestiame che adesso è diventata qualcosa di molto diverso ha una storia comunque lunga siamo qua per anticiparla per presentarla il 13 e il 20 due domeniche consecutive in ottobre quali sono a questo punto le novità perché quando c'è una storia lunga è sempre difficile mantenere la tradizione aggiungere novità sì è vero ma le novità tra l'altro abbiamo per l'intrattenimento per la vista del grande pubblico abbiamo dei professionisti assoluti a livello nazionale e oltre per la nostra quest'ultimo anno abbiamo riscoperto le antiche pratiche tradizionali e quindi dimostrazioni di carico e scarico dell'utilizzo perché dopo l'alluvione abbiamo riutilizzato riscoperto i muli e quindi anche i cavalli per l'esbosco c'è molta passione da parte molto interessamento e ha colpito molto questo progetto che abbiamo fatto a proprio a livello nazionale quindi vediamo un sequel vedremo ma non solo questo troverete tanti cavalli tanta passione gare quindi un contenitore socio gastronomico totale 360 gradi adatto a tutti e quindi dal più giovane al più anziano dall'inesperto all'esperto dalla dall'appassionato a chi vuole spendere insomma una giornata una domenica indimenticabile anzi due domeniche indimenticabili quindi ricordo il 13 e il 20 a tutto il grande pubblico tutti oggi inutile nascondercelo il tempo non è bellissimo qualche goccia di pioggia ma questo mi dà la possibilità di sottolineare che una giornata passata qua in occasione di fiera cavalli che ci auguriamo che sarà una giornata radiosa sia quella del 13 e quella del 20 comunque è una giornata che può accettare anche l'idea di un tempo non bellissimo cioè è comunque una grande e bella giornata da passare qua e allora io sono nato del 74 la prima mostra del 73 ma nei miei ricordi da bambino c'era sempre la la mostra bagnata e con neve gli ultimi periodi ci ha abituato bene il tempo e sicuramente anche queste due settimane ci darà una grossa mano il buon signore il nostro meteo e poi dopo naturalmente con o senza acqua gli spettacoli vanno avanti del show mascono no natalia grilli vice sindaco e assessora la cultura e al turismo siamo proprio in pieno nei suoi assessorati e allora parliamo un po di questo cavallo così forte come attrattore e come anche argomento culturale sì sicuramente la fiera cavalli è il momento in cui siamo più attrattivi dal punto di vista delle presenze turistiche sul territorio cerchiamo di spalmare poi questo anche durante tutto l'anno quindi di non concentrare tutto nelle due domeniche di ottobre ma di lanciare con le domeniche di ottobre proprio l'identità turistica del territorio di cantiano che affonda le proprie radici nella montagna nella cultura della montagna impatto turistico sostenibile quello che insomma ci caratterizza che vogliamo raccontare di noi ai visitatori e quindi dare l'abitudine proprio a chi viene a visitarci in occasione della fiera di cavalli di avere a che fare col cavallo perché è proprio un qualcosa di unico e che ci contraddistingue che con la con cui non sempre no tutti sono abituati ad interfacciarsi quindi poi quando si torna cantiano c'è la possibilità di fare escursioni in montagna cavallo in tutti i periodi dell'anno sono tutti temi di estrema attualità quando si accende la televisione non solo la nostra oppure quando si scorrono i social si parla sicuramente di turismo sostenibile tutto quanto voi c'eravate già questo è uno degli elementi cantiano c'era già questo fa parte della vostra storia appunto della vostra cultura e è il momento insomma di farci avanti sì sicuramente noi abbiamo questa proposta turistica con questa vogliamo contraddistinguerci e farci conoscere c'eravamo già come giustamente hai detto quindi con la una cultura della montagna dell'appennino dell'entroterra che non vogliamo dimenticare quindi che vive la montagna che vive anche grazie alla montagna che deve diventare anche un'occasione di economia di economia nuova che affonda le sue radici nella tradizione nel passato con tutti i lavori connessi no l'economia che c'è intorno al cavallo che va dal trasporto del legname dal turismo equestre che oggi insomma è la novità di di questi anni e con tutte poi le ricchezze annesse connesse con il cavallo che sono l'enogastronomia l'almarena di cantiano pane di chiaserna insomma tutto ruota intorno al fulcro che è il catria e il cavallo che qui a chiaserna trovate strettamente connessi e legati Siamo con noi a Giacomo Romitelli vicepresidente nazionale ANAERAI l'ho imparato finalmente questo acronimo così particolare e che serve a sottolineare la tutela di una razza così importante come quella del cavallo del catria Sì appunto ANAERAI l'associazione nazionale allevatori razze equine ed asinine italiane di cui sono vicepresidente a delega dal ministero per gestire la tenuta di diversi registi anagrafici e libri genealogici delle varie razze italiane ed in particolare in questo caso del cavallo del catria perché è importante sia preservare la conservazione che il miglioramento di queste razze Ogni volta che ci sentiamo a me nasce la curiosità e la domanda è ripetitiva lo so ma come sta il cavallo del catria? Procede? Procede bene? Sì assolutamente sì anche grazie ad un grande impegno anche dalla regione Marche perché a partire diciamo dagli anni passati è stata fatta una legge di tutela del cavallo e valorizzazione del cavallo del catria grazie all'assessore Carloni quando era assessore dell'agricoltura e al consigliere Giacomo Rossi che hanno appunto portato avanti questa legge e in concomitanza è stato dato la possibilità agli allevatori di allevare secondo metodo biologico perché in passato non si poteva. Inoltre da quest'anno con l'assessore Antonini è stato aumentato il contributo previsto per il cavallo del catria per tutelare diciamo con la SRA 14 e quindi gli allevatori sono sia grazie a questo ma il trend in aumento era già in corso e quindi si sta consolidando. Per darvi un'idea partivamo nel 2020 che c'erano circa registro anagrafico circa 935 esemplari adesso siamo intorno ai 1500 quindi ecco è notevolmente in crescita. Il lancio era perfetto per la domanda che già avevo in mente di fare che è questa naturalmente noi abbiamo parlato e parliamo sempre di questa manifestazione dal punto di vista turistico se vogliamo anche dal punto di vista culturale il vicepresidente Romitelli è anche un allevatore è stato definito il più importante dal sindaco Piccini e allora all'allevatore a questo punto chiedo dal lato allevatori e dal lato cavalli un evento come Cantiano Fiera Cavalli che tipo di importanza ha? È importantissimo perché ti permette di dare visibilità al lavoro fatto durante tutto l'anno così come è importante sia partecipare alle fiere fuori sia a livello italiano come partecipiamo sempre a Verona e ad altre fiere così come quelle estere come siamo stati in Germania a Offenburg però avere un evento qui sul territorio dove riusciamo a far vedere soprattutto i nostri capi il cavallo del Catria ma anche avere delle linee guida per la selezione perché verranno appunto quattro tecnici che analizzeranno questi cavalli del Catria che valuteranno questi cavalli del Catria in base alla morfologia per dare un indirizzo anche all'allevatore cioè anche la rassegna non vince il più bello, vince quello che rispetta più i canoni del cavallo del Catria certo naturalmente è una valutazione in base alla morfologia quindi anche alla bellezza però deve rispettare i canoni dettati dagli standard di razza alla luce di tutto questo potremmo dire a questo punto che una fiera che nasce con delle finalità anche molto tecniche e che diventa qualcosa di attrattivo dal punto di vista turistico riesce a completare tutto questo e a fondersi in un unicum probabilmente appunto unico e raro in Italia è riuscito? Assolutamente sì ecco perché ogni aspetto fortifica l'altro quindi essendo molto diventata comunque più commerciale ci sono più persone sicuramente che vengono qualcuno si appassiona, qualcuno si interessa e allo stesso tempo mantiene una certa tecnicità diciamo che riesce a fornire un supporto a tutti gli allevatori Si è conclusa questa conferenza stampa sempre un bel momento sempre molto piacevole per noi venire qua alla Badia a Chiaserna al centro Ippico nel quale appunto è stata descritta e raccontata l'edizione autunnale 2024 di Cantiano Fieracavalli ricordate non dimenticate segnatelo nell'agenda domenica 13 e domenica 20 ottobre 2024 per altre due giornate straordinarie da vivere in pieno nella natura insieme a tutti i cavalli e a tutte le attrazioni e attività di cui abbiamo parlato con i protagonisti e gli organizzatori